Ragazzi, che... che Dio ce la mandi buona! Dammi tutto subito sto walkout! Argentina, alla destra! Oh! Nel caso volete un po' di frutta... Io c'ho la mela! Mica male! Porco diaz! No! No, 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 no! Porco diaz! Ho applicato lo stemma della Juve, raga! Porco madonna! Mannaggia! Vabbè, dai! Speriamo di trovare lo stemma del Milan da questo... da quest'altro pacchetto! Uh! Marocco! ATT! Ma che è? Tutti ristascazzi di squadra di... Tecnoid? Salutiamolo, che ci voglia dando bene! Ragazzi, qui i crediti vanno, i crediti vengono! E allora io ne apro un alto... Un alto? Uno alto ne apro! San Marino! Putin! Garci! Buggato! Buggato sicuro! Anteprima pacchetto! Barcellona! Difensore centrale spagnolo! Del Real Societad! Sti pezzi di madre che mi potevano regalare una bella gioia mi potevano regalare! Invece si sono fatti pareggiare a sti... E all'ultimo! Andiamo! Un po' di crediti vorrei tenere! Ma che squadra so, raga! Ma da dove è questo? Oh, però questa c'ha 81! Vedi che io ti preparo una squadra ibrida che è porco due tra maschi e femmine! Oh! Nice! Bene, 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 bene! Mettiamo tutto in cambusa, tutto in cambusa! Andiamo! 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 È il momento! Spagna! Portiere De Gea! Ma che è, Cagliari? Nope! Ma la San Benedettese, raga, che squadra è? O Sasuna? Ne... Bona! Bona! Mille crediti! Boni! Boni! Ecco! Sto pacchetto ne valse la pena solo per questo! Ah boh, raga, io tengo tutto perché ci servirà poi per le SBC! Andiamo! Non c'è tempo per i deboli! Non c'è tempo per i deboli! Non c'è tempo per i deboli! Portogallo! Attenzino destro! Manchester United! Dalot! Buono, eh! Non è scarso, raga, non roppete... Non è che dovete scrivere che è scarso perché siete invidiosi! Io l'ho trovato io e voi no! Leggenda! Fiorentina! Blaovic! Eh, ma che cosa sta? Allora... 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 Jack... Allora... Io ti... Ti seguivo quando giocavi col Milan... Ma una foto fatta meglio... Cioè... Potevi chiedere di rifattela! Ragazzi, non c'è tempo per i deboli! Non è tempo per i deboli! Italiano! Attenzino sinistro! Fiorentina! Parisi! Male, male, male! Non importa! Allora, devo chiamare Cristiano Ronaldo! Croazia! Cirocci! Modric! No, Fajenord! Eh, vabbè... Ce l'ho sperato, raga! Confermiamo il pacchetto? Dammi il pacchetto! Francia! Cici! Porca madonna! Eh, comunque mi posso quasi dire che al momento troppo sta andando bene! Un walkout me lo merito! Un walkout me lo merito, ragazzi! Solo per aver prenotato 100 euro di edizione di merda! Francia! ATT! Sporting! Banza! Banza! Ci mettiamo un po' a dieta! Guarda che banza! Avete ragione, regà! È lo stemma che porta male! Club! Ah, ecco qua! Via, 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 via! Leva, leva sto stemma! Leva sto stemma che questo porco diazze porta la peste, sto stemma! Via, via, via! Rimettiamo questa! Questo è un pochetto più caruccio! Ma che c***o fai? Ma rimetti subito queste, clown pagliaccio! Mo, mo si ragiona! Mo si può andare a spacchettare! Andiamo! Nuovo stemma, regà! Nuovo stemma fondatore maglia del Milan! Belgio! Cici! Ma dai, ma porto diazze! Ma che è queste squadre? 76, lizz! Devo rimettere lo stemma della Juve? Non mi fate rimettere lo stemma della Juve perché impazzisco, eh! Porco diaz, porco! Andiamo, andiamo! Portiere! Angel City! Cucciola! Cucciola! Ma io un draft lo faccio stasera? Allora, intanto proviamo senza giro di sedia! Spagna! AD! Paris Saint Germain! Mbappé! Asensio! Asensio! 3-1 è finita! Buono! Regà, io al momento non giro la sedia, non ho bisogno! Spagna! C.O.C. Ma perché sempre sta squadra? Regà, ma che cos'è? Mi madre! Giro di sedia! Uno! Due! Minchia, mi sto per cosa? E... Tre! Minchia, il vomito! Uuuh! 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 Che è quello? Il Gana? E tu? No, vabbè, Florenzi, mi dissocio! Se pio sti pacchetti è un disastro! Vado in bancarotta! Allora, regà, se spendo duemila... Se spendo duemila FIFA Points... Fini... Cioè, finisce la festa! Facciamo sta cazzata, dai! Dai, facciamo sta cazzata, dai! Italia! E già partiamo male! C.C. Del Paris Saint Germain! Verratti! Uuuh! Doppio volcato Griezmann! Uuuh! Uuuh! Mamma mia! Griezmann e Verratti! Alexander Arnold! Oh, no, no! Ma, regà, ma che pacchetto è questo? Vediamo se ci sta qualche baggadone qua in mezzo. Ma questo era garantito? 3% di probabilità, ragazzi, sculata della vita! Regà, ma ho avuto la sculata terribile, impressionante, pazzesca! So contento! Finalmente! Stop it from shining through, it's true, baby, laugh all the time!